Periodicamente nella Hall di Confcommercio presentiamo degli artisti e diamo questi spazi non spazi, in fondo questa è la casa dell'impresa, la casa dove si ragiona spesso di economia, ma a noi piace pensare a questi spazi come luogo della cultura e quindi diamo l'opportunità di presentare artisti, pittori. Recentemente abbiamo presentato una nuova scultura di Leonardo Nobili, un altro artista pesarese molto noto e famoso, mentre con Renato Arzeni diciamo che c'è una frequentazione ormai da alcuni anni, nel senso che già in altre occasioni abbiamo voluto ospitare alcune sue opere. Renato è un artista che a me personalmente, ma a noi piace molto, io stesso ho chiesto a Renato di farmi alcune opere per la mia, chiamiamola collezione privata, ma è un artista che amo molto perché i suoi ritratti, la sua voglia di rappresentare il bello, ma anche la sofferenza, l'anima umana è veramente straordinaria, per cui pensiamo che le sue opere possano piacere molto, come già sta accadendo, alle persone che abbiamo invitato a questa inaugurazione, che rimarrà aperta fino al 20 ottobre, qui nella sede di ConfCommercio. Ho iniziato a dipingere dal 2007 e queste che sono esposte presso la ConfCommercio di Pesaro sono le ultime produzioni. La tipologia di quadri sono ultimamente solo ritrattistica, ma mi piace anche riprodurre quadri di pittori famosi dell'Ottocento per cercare di emozionarmi come presumo abbiano avuto la fortuna loro di emozionarsi mentre dipingevano. Quindi parto anche dal Caravaggio, da alcuni pittori fiamminghi, pittori olandesi e così. E in più ritrattistica locale di miei vicini di casa, di amici e via di seguito.